Scusa, Leo, a proposito, noi dobbiamo un attimo parlare di cose serie, Leo, una cosa, oggi tu hai fatto una promessa e l'ha fatta davanti a tutti, grazie al servizio d'ordine tenuto per evitare che si fossero deteriti, io prometto che la prossima rattrattoriata verrò, non era questa, no? Nudo, io sono disposto a premutare con un disegno con tutti i crismi, un disegno che so che essere è più, un disegno con tutti i crismi, cambia l'espressione a seconda di come inclini il foglio. Allora, facciamo una cosa, io declino, l'unica, lo voglio, però vorrei, che è una cosa che, ma è una stronzata, una scura fotocopia della tavola dove c'è praticamente la mano del fumetto l'ha pubblicato a morte, praticamente. Sì, 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 bella, ci piace anche quella. Ti posa in più, in più, in più, sì, sì, ci piace, come extra. Grazie per l'altra scuola. Venite, venite, venite. Grazie, grazie. Mi fate ridere che poi si muove la punta. No, la rifaccio perché si vedete quelli che ho fatto. Posso che dovrò fare la stessa situazione perché se lo guardate di città, la parola è il nostro. Se il tempoting le gente ce ne accogge. Vieni qua e buboga fai insieme a noi. Non c'è un errore di foto fatto vicino a me. Ci piace la storia della mega fotocopia. Bravo, bravo. L'ho filmato mentre mi fotografavo, ma ho firmato mentre accettavo questo contratto. no aspetta per cui praticamente contratto esatto è l'infinito io filmavo la foto quindi nella foto si vedava la telecamera che riprendeva e nella telecamera si vedava la foto che fa e quindi il rimane lo infinito di immagini mi ha fatto una tavola bellissima si l'ha fatta segando chi? mi ha fatto una tavola extra disegno e fotocopia posso offrire fino a 290 euro solo noi del servizio d'ordine vabbè e la fotocopia posso essere indisponente Donald ma tu dov'eri mentre noi facevamo il cordone umano? ma no ho preso il cordone umano ho voluto creare un momento di imbarazzo gratuito infatti domani la pan fa lo sconto a tutti tranne a Donald è giusto ma lo sconto su cosa? prima lo sconto lo fa me poi lo fa voi io sono stato io il promotore ma che mi sei letto in tutto mi trovavo nel portone umano che mi sei letto in tutto è lì bello no 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 cazzo 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 cazzo